La vettura che presentiamo è una Ford C-Max 1.6 turbodiesel 110 cavalli in versione titanium. Vettura aziendale con 21.000 km e con un equipaggiamento completo, cerchi lega, cruise control, bluetooth, comandi al volante dell'autoradio, climatronic, 4 vetri elettrici. L'auto è immatricolata ad aprile del 2013 ed è proposta al costo di 16.500 euro più passaggio di proprietà.